La situazione di siccità nei campi dell'area vestina è preoccupante. I fiumi e i laghi sono quasi a secco, i pozzi sono senza acqua. Se non dovesse piovere nelle prossime settimane si prospetta un disastro per l'agricoltura. A rischio c'è la raccolta anche di alcune produzioni tipiche. Gli allevamenti invece lamentano la riduzione della raccolta di erba medica e foraggio. L'appello all'arme lanciato dal sindaco di Penne, Gilberto Petrucci. Situazione preoccupante, possiamo dirlo senza tema di essere smentiti. Sì, una preoccupazione molto alta proprio perché non piove a diverso tempo. I laghi e i pozzi sono quasi a secco, i fiumi ormai sono diventati dei ruscelli. Quindi c'è una preoccupazione. A ciò aggiungiamo anche che la diga, il principale invaso dell'area vestina e della valla del Tavo, è chiuso dal mese di giugno di quest'anno proprio perché manca acqua e quindi siamo molto preoccupati. Gli agricoltori sono in difficoltà in questo momento. Ci sono i presupposti per richiedere lo stato di calamità? A mio avviso sì. Alcune produzioni importanti come il tondino del Tavo, il pomodoro a pera rischiano di scomparire dalle nostre tavole proprio per l'assenza di acqua, a cui aggiungiamo anche la carenza di foraggio perché la produzione a seguito di siccità è calata tantissimo e quindi vanno in difficoltà anche gli allevamenti delle nostre mucche che producono latte. Quindi lo scenario è davvero preoccupante. Dobbiamo programmare per evitare anche in futuro di ritrovarci in queste condizioni. Quindi occorre una sinergia tra consorsi di bonifica, regione e istituzione del territorio. Scenario mai così preoccupante? Nella storia è successa una situazione analoga? Analoga mai perché gli invasi erano comunque fino a fine agosto carichi. Oggi invece siamo arrivati a giugno dove non c'è più acqua. Quindi come già i vertici nazionali delle varie organizzazioni sindacali hanno lanciato l'allarme nei giorni scorsi la situazione soprattutto nel centro-sud è drammatica se non dovesse piovere. Insomma bisogna sperare in giove e pluvio? Senza alcun dubbio.